Noi belli grazie Ciao, come va? Bene, se riesco a ripresarmi dalla scala Perché è arrivato un odore... No, perché sono io con questo attrezzo Cosa c'è? Vino? Cos'è? No, è una soluzione I poesi arrivano e portano una soluzione di odore di vino Mi sa che il vino è ferro Cos'è questa cosa? Hai capito? Tiene le angine a mollo nella... Odoriamolo con l'altra camera Aromatizzato Cos'è sta roba? È il segreto per diventare un bravo sassofonista, no? Sì, è una cosa che sarebbe per mangiare neanche un sacco di... O ti canta lui E in palla subito E in questo video... E in questo video... E in questo video... E in questo video... ...